Siete pronti? Calendario dell'Avvento 2022 Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Anche quest'anno, me lo dico da sola, mi sono superata Calendario dell'Avvento del Natale 2022, veramente Un calendario in stile nordico per riscaldare i cuori e le case nella preparazione al Natale Io vi regalo il calendario dell'Avvento, vi dico come farlo Ma voi dovete regalare ai vostri amici lui, il mio libro, il ricettario dell'arte Molto presto faremo un video con una ricetta presa proprio da qua e dedicato al Natale Quindi non fatevi trovare impreparati e correte a comprarlo Tutte le ricette relative ai materiali dell'arte Per poterli fare a casa comodamente, facilmente Ed avere dei materiali di ottima riuscita e di ottima qualità Il ricettario dell'arte in tutte le librerie e naturalmente nelle librerie online Vi lascio il link qui giù in info box È un bellissimo regalo di Natale Andatelo a sbirciare in libreria e vedrete che lo acquisterete Grazie se lo farete Mi raccomando Clicca la campanella per non perdere i futuri video Specialmente questi di Natale Clicca su iscriviti se non sei ancora iscritto Vieni a trovare su Facebook, Instagram, TikTok E sui miei altri due canali Ombretta e 2 Corina K E ora basta parlare, spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a preparare il calendario dell'avvento in stile nordico Ed ecco l'occorrente per il calendario dell'avvento 2022 Un calendario all'insegna del mio anno ragazzi Perché se avete visto la mia testa vi sarete accorti che quest'anno ho fatto un sacco di tinture Ci occorreranno 2, 4, 6, 8 scatoli di tinture Voi direte Ma dove li prendo? Se andate da qualunque parrucchiere ogni giorno ne butta almeno il quadruplo Quindi vi basterà chiedere ai parrucchieri vostri qualche scatola L'importante è che abbiano tutte la stessa dimensione Numeretti per il calendario dell'avvento Io qua ne ho di differenti tipi Lucine e batterie che andrò a prendere tra un poco Per il nostro calendario E ci occorrerà anche dello scoccio e biadesivo spessorato Che abbia quindi un minimo di spessore che sia adesivo da ambo i lati Una scatola attorno alla quale si svilupperanno tutte le caselline Io ho preso questa che è la parte superiore di una scatola di scarpe Voi cercate la scatola che più si addice E ci occorrerà anche una fustella Taglia balza, forbicine, matita, forbici E ci occorreranno anche dei pompon E poi ci occorrerà un cartoncino bianco abbastanza grande E poi ci occorrerà un acrilico bianco Un pennello e un po' d'acqua E poi ci occorrerà la pistola a caldo con relativa a stecca Iniziamo subito! Come prima cosa ricaviamo 24 scatoline dalle scatole della tintura Allora come faccio? Io qui ho una scatola Di conseguenza devo fare in modo che le mie scatoline abbiano la stessa altezza di questa scatola Metto dentro la scatola la scatolina così E con la punta della matita Segno tutto il bordo Così Voilà! Vedete? Ha segnato con la matita A questo punto apro la scatoletta Taglierò lungo la linea E la prima delle mie scatoline è pronte Il fondo sarà forato Ma non mi interessa Perché la dovrò appiccicare così La apro così E su questa farò tutte le altre Quelle vicino all'apertura Sarà molto semplice farle Perché mi basterà tracciare la linea di fondo Così Ok? E poi ritagliarle Ed ecco qua Una seconda scatolina Quelle invece Che dovrò ricavare Da questa parte Dove non c'è l'apertura Dovrò proprio farle in tutto e per tutto Quindi cosa faccio Adagio la scatolina Così Traccio la linea di fondo Così Ma nel contempo Poi Devo tracciare Anche i bordi Delle linguette In modo che Possa ritagliarmi Ben bene Tutta la forma E voilà Un'altra scatolina È bella e pronta Quindi tante 24 scatoline Con fondo aperto Ritagliate le 24 scatoline E tolti tutti gli adesivi Con i numeri del colore Perché questa è una fase Molto importante Prendiamo il nostro Acrilico bianco E dipingiamole Ad una ad una Tutte di bianco Se volete Potete anche rivestirle di carta Io preferisco dipingerle Finite le casette Mi dedico alla scatola Con l'acrilico bianco Dipingo Tutte le sponde Che sono nere E naturalmente Le faccio bianche E lo faccio Su tutte le sponde Dipinta Ed asciugata Tutta la scatola Cominciamo Ad assemblare Inserendo Le nostre caselline Lo faccio adesso Perché Mi serve sapere Poi lo spazio interno Che rimane Per creare La scenografia Che darà proprio La tipizzazione La tipicità Al mio calendario E allora Pistola Per colla a caldo E su due lati Inserisco la colla Cerchiamo di Non bruciarci E facciamo Aderire Così Perfettamente La parete Della scatola Alla Prima scatolina Per adesso Non fisso La parte finale La fisserò In un secondo momento Prendo Una seconda scatolina Sporco Il margine E la appongo Vicina Vicina Terza scatolina E anche qui Con la caldo Sul margine Sulla sponda Della scatola Un po' Via via Anche sul pavimento E attacco La scatolina Ogni tre Sigillo Prima fila Fatta Ora Faccio la stessa cosa Anche al piano inferiore E poi Le ultime quattro Le metterò Così Adesso Prendiamo La misura Di questo rettangolo Nel mio caso È 26x13,5 E con Un'altra scatolina Ritaglio Queste sponde E circondo Ben bene Questa parte Quindi Colla a caldo Su tutto E inserisco Presso E vedete Come il lavoro Risulta subito Più rifinito E adesso Mettiamo Le sponde Laterali Una E poi Con dei pezzi Di cartoncino Chiudo Questi Bucchetti Qui Possiamo Inserire Magari Dei soldini Per i nostri Bimbi Per il giorno Del 25 E mettere Qualche adesivo Con una scritta Buone feste Buon Natale Ora vediamo Insieme Nel frattempo Io Devo preparare L'apertura Di tutte Le caselline Prendo I pompon Credo Che farò Così Un pompon Su ogni Scatolina E adesso Appiccichiamo I numerini Io userò Questi Dorati Guardate Che carino Sin qui Adesso Dobbiamo Creare Un'ambientazione Natalizia Al centro E sarà Proprio La parte Luminosa Del nostro Calendario Lo faremo Con la Sovrapposizione Di un Paesaggio Che creerà Appunto Un paesaggio Multistrato Un po' Tridimensionale Nel suo Essere Molto piatto È un gioco Di ritaglio Che renderà Veramente Bellissimo Il nostro Calendario Iniziamo Subito Ritaglio Un po' Di rettangoli 26x13,5 Che poi Appunto È la grandezza Del rettangolo Centrale Del mio Calendario Adesso Ho preparato Tanti Rettangoli Di carta Che possano Essere Alloggiati Al centro Del mio Calendario Cominciamo Subito Il fondo È già Dato E il fondo Lo lasciamo Così Pratichiamo Semplicemente Però Un buchino Nella parte Bassa Facciamo Qui Un forellino Non lo saprà Nessuno Segreto Cominciamo Con Il primo Cartoncino Che Infileremo Tipo Qui Su cui Disegneremo Una luna Dovrà Stare Ben Infilato Ma Non piegato Quindi Facciamo In modo Che abbia Proprio Una giusta Grandezza Io Ho Le fustelle Quindi Uso Loro Per fare La luna Ma Se Voi Non Avete La fustella Ovviamente Ritagliatela A mano E poi Con il tagliabalza Ritaglio Qualche Stella E mettiamolo Da parte Prendiamo Un secondo Cartoncino Diamo La forma Del primo E Disegno Delle Montagne Sul terzo Cartoncino Disegno Un pendio Voilà Così E su Su questo Pendio Degli Alberelli Di Natale E Ritaglio Poi Tagliamo Un cartoncino A modi ulteriore Altura Poi Un altro A modi ulteriore Altura Ancora E Inseriamo Degli alberi Di Natale E Adesso Disegno Un cervo Nell'ultimo Piano Faccio Una cornice Ovale Fatto Un disegno Cornice Adesso Comincio Ad Intagliare Musica Musica prendiamo adesso tutta la nostra bellissima scenografia e cominciamo ad assemblarla innanzitutto in basso a destra pratichiamo un forellino perché da qua dovranno passare le lucine e pratichiamolo su tutti tranne che sull'ultima quindi a questo punto prendiamo le nostre luci ok prendiamo il capetto e facciamolo passare dal forellino del calendario dell'avvento vi ricordate che avevamo forato anche lui benissimo prendo lo scotch biadesivo e taglio qualche pezzettino e appiccico in maniera ordinata il filo della luce e metto da parte il tutto per adesso rimaniamo così adesso prendiamo tutti gli scenari il primo è la luna ed essendo l'ultimo prendo poi subito dopo quello che viene subito dopo come prima cosa sul retro della luna metto un doppio strato di scotch biadesivo per dare un bel po di spessore dietro di lui ci sarà tutta la parte del filo quella più grossa quindi devo dare un po di spazio uguale adesso fatto il primo prendo il calendario faccio passare il capetto delle luci ok e adesso inserisco questo questo e voilà così a questo punto dopo aver messo questo capiamo dove va messo questo quindi tutto attorno con lo scotch appiccichiamo adesso mettiamo un paio di biadesivi anche sulla seconda scenografia e inseriamo anche la seconda ambientazione 1 2 3 procediamo con la terza ambientazione quindi da prima assicuriamo la luce e adesso mettiamo lo scotch sul retro di questo inserisco la luce arriviamo al quarto livello yuhu guardate che bello è dolcissimo in fondo c'è lei con lei dobbiamo essere più bravi nel senso che adesso devo attaccare attorno a questa il filino così allora cominciamo subito mettiamo negli angoli in basso il biadesivo spessorato e posizioniamo qua ma con lui dobbiamo essere un pochettino più bravi perché dobbiamo prendere anche il filo attorcigliarlo attorno inserire lo scotch e assicurarlo alla parete e adesso per rifinire lo specchietto tutto attorno cordoncino preso all'ikea del tutto facoltativo e lo poggio rifilando appunto tutto il il perimetro allora colla a caldo poggiamo il cordoncino e adagiamolo uguale queste cose sono del tutto facoltative ma sono quelle vi ricordo che rendono un pezzo più o meno bello più o meno vivibile a casa più o meno artigianale più o meno vendibile e abbiamo finito no non abbiamo finito mancano le cose più importanti i cioccolatini e in ogni casellina un bel cioccolatino vabbè divertitevi a farcirlo io adesso finisco abbassiamo le luci abbassa ok vediamo e voilà oh ma non è bellissimo ora ve lo faccio vedere nelle foto ben fatte al buio e vedrete che meraviglia e allora buona preparazione al natale pollice in su per questo video super fantastico ci vediamo dopo e allora ditemi se non è fantastico avete visto guardate quanto è venuto pulito dietro semplicemente il vano batterie da qui si accende e voilà abbassiamo le luci e guardate che meraviglia e c'è un sacco di luce questo di sera proprio brilla brilla di paesaggio di natale io lo trovo delizioso delicato con questi tocchi dorati questa luce calda che lo illumina mi piace un sacco il calendario dell'avvento di quest'anno ho fatto bene a fare tante tinture visto c'è sempre un perché per ogni cosa se questo video vi è piaciuto pollice in su condivisione guardate tutti i link che vi lascio qui giù in info box per arrivare agli sfondi per arrivare al mio libro per arrivare a tutte le diritte che possono servirvi per meglio svolgere il vostro lavoro di riproduzione di questo calendario quindi per ogni video questo vale l'info box è sempre il posto dove io metto tutti gli appunti che possono servirvi per meglio svolgere con più agevolezza ogni lavoro e qui proprio sotto il video dove c'è la scrittina mostra altro bene basta parlare vi auguro una splendida preparazione al natale e noi ci vediamo per il prossimo video creativo sempre qui su arte per te da ombretta dal calendario dell'avvento 2022 credo che ne farò anche un altro per adesso quindi è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao grazie a tutti